Ci troviamo qui a Lignano Saviadorio, siamo a bordo del Ranieri International Kaiman 21 Sport che è motorizzato con un Mercury 40 Pro. Questo è un gomone da 6 metri e mezzo che di solito viene motorizzato per chi ha la patente quindi con motorizzazione oltre anche i 100 cavalli. Oggi l'abbiamo motorizzato con un 40-100 cavalli per dimostrare che è un battello oppure essendo di lunghezza di 6 metri e mezzo si può guidare anche se non hai la patente. Adesso vediamo le prestazioni, tempo di planata, velocità massima e vediamo le prestazioni. Adesso andiamo in planata così vediamo il tempo che ci mettiamo per planare. Fatto. Il battello è andato in planata in 4 secondi e mezzo. Adesso stiamo raggiungendo la velocità di punta che è di 29 miglia orarie e l'abbiamo raggiunta in poco meno di 20 secondi. Adesso andiamo in planata in 5 secondi. Noi, not shy.